Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un nuovo video, indovinate un po' a tema Harry Potter e naturalmente ragazzi, come avete visto dalla copertina, Vinted, che ormai ha praticamente prosciugato le mie finanze Io vi lascio sotto in info box il link per iscrivervi su Vinted, vi lascio anche il video dove vi racconto cos'è e come funziona Vinted e naturalmente iscrivendovi tramite il mio link trovate anche il mio nickname per vedere quello che io vendo su Vinted perché avendo tantissime cose anche in esubero, solitamente le metto su Vinted in vendita quindi qualora foste interessati potrete trovare anche roba di Harry Potter, tante cose, libri e altre cose che magari non mi servono più e io metto lì in vendita e ragazzi, detto questo vi ricordo anche che utilizzando il codice sconto 7 Potter su Pampling avrete sempre un paio di calzini in omaggio a tema nerd con ogni acquisto e il codice sconto è sempre accumulabile con tutte le offerte di Pampling e trovate sempre in info box anche il link alla mia vetrina Amazon dove trovate tantissimi prodotti a tema nerd e Harry Potter scelti da me e naturalmente acquistando tramite i link aiuterete il canale a crescere, quindi grazie in anticipo adesso bando alle ciance, chiuso il momento promozionale ragazzi, ho qui un po' di pacchi di Vinted i pacchi sono naturalmente già aperti perché come vi ho spiegato una volta ritirato il pacco dal punto di ritiro si hanno tre giorni di tempo per segnalare eventuali problemi, truffe, oggetti rotti o qualsiasi altra cosa quindi non riuscendo a conciliare i tempi di registrazione con i tempi di ritiro dei pacchi sono costretto spesso e volentieri ad aprire i pacchi in anticipo ma ragazzi vi volevo mostrare il primo pacco che è questo qui che è arrivato in queste condizioni è arrivato dentro una busta per la spesa questo arriva dal Belgio ragazzi, credo ci sia poco da commentare anche la signora che mi ha dato il pacco al centro di ritiro si è messa a ridere, mi ha detto la gente è folle, la gente spedisce le cose dentro le buste di plastica fortunatamente si trattava di un cuscino e quindi non ci sono stati grossi problemi non era rotto, non era strappato e quindi ho confermato che la merce era conforme a quella acquistata e ragazzi, di cosa si tratta? magari i più svegli di voi ci saranno arrivati si tratta del libro Mostro dei Mostri di Noble Collection questo libro io l'ho visto spesso e volentieri su internet l'avevo anche visto dal vivo a Covent Garden a Londra nel negozio di Noble Collection però costa circa 60 euro 65 dipende dai momenti e spendere quelle cifre per un peluche alla fine non mi era diciamo che non era tra le mie priorità ecco e invece l'ho beccato su Vinted a udite udite 12 euro 12 euro ragazzi non potevo lasciarlo lì e quindi l'ho acquistato subito e ragazzi eccolo qui io vi dirò cercavo una replica del libro Mostro dei Mostri da tantissimo tempo ne esiste una che è proprio la replica ufficiale che non è di Noble Collection ma di un'altra azienda e costa tantissimo non si trova facilmente siamo oltre 200 euro mentre le versioni più economiche o sono troppo piccole ma davvero tanto piccole o ci sono delle versioni fatte a mano ma fatte male versioni troppo giocattolose e alla fine mi sa che quella migliore da acquistare come compromesso è questa qui di Noble Collection perché alla fine abbiamo il nostro libro abbiamo la lingua che pensola abbiamo i denti questa parte qui avrei preferito fosse stata fatta magari in silicone o fosse stata fatta in peluche ma invece è stampata su questa sorta di plastica che ok non è malaccio però potrebbe essere fatta meglio ma in ogni caso per il resto i dettagli sono molto molto carini abbiamo la pelliccia quindi non è stampato abbiamo la cucitura con il titolo del libro il The Monster Book of Monsters e poi abbiamo tutti i suoi tentacolini il pelo sul dorso da lisciare è davvero ben fatto ben cucito abbiamo anche i suoi occhietti qui davanti realizzati con dei proprio bottoncini a forma di occhio abbiamo questi quattro occhi qui sulla parte superiore invece dietro è completamente liscio però ragazzi devo dire che è per quello che l'ho pagato ci sta tutto questo va dritto dritto nella mia collezione perché non avevo proprio niente che rappresentasse il libro Mostro dei Mostri e finalmente anche lui entra nel mio piccolo museo casalingo che ormai a questo punto chiamerei così e non più collezione ma ragazzi Vinted mica mi ha fatto comprare solo questo ma neanche per scherzo mi ha fatto spendere altri soldi e ho già altre cose in arrivo quindi ragazzi vi prego venite a casa mia e disinstallatemi questa applicazione perché è diventata una droga e molti di voi mi mandano messaggi segnalandomi cose acquistano cose di Harry Potter me le fanno vedere sono super contento ma ragazzi credo di aver distrutto l'economia di mezzo paese con la divulgazione di Harry Potter più Vinted ma detto questo passiamo al prossimo acquisto che è ancora più interessante di questo eccolo qui questa volta bustina e ragazzi questo arriva invece dalla Francia vi dirò il 99% delle cose che acquisto su Vinted arrivano dall'estero Spagna Francia Belgio Olanda non acquisto quasi mai niente dall'Italia ma perché semplicemente in Italia mi sa che non siamo così tanti a collezionare roba di Harry Potter perché non c'è tanta roba in vendita non c'è un grosso mercato dell'usato e quelle poche cose che trovo da buoni italiani vengono vendute a prezzi folli a volte più cari dei prezzi nuovi su Amazon e quando magari lo fai notare viene anche bloccato quindi gli italiani non hanno ben capito secondo me il concetto di Vinted dove bisogna vendere a prezzi bassi la roba che non si vuole più in casa roba usata ma non vendere a prezzi ancora più alti a prezzi da collezionismo perché in quel caso meglio mettere le cose su ebay allora qui si mettono le cose che non si vogliono più in casa e di cui ci si vuole disfare velocemente io ad esempio ho moltissime graphic novel in vendita a 3-4 euro ma sono libri che costerebbero 20-25 è quello il senso di Vinted ma detto questo ragazzi ecco che ho acquistato un'altra cosa che avevo visto a Londra ma che non avevo preso e si tratta di questo il tacquino del libro del principe mezzosangue quindi pozioni avanzate e vi dirò perché non l'ho acquistato al negozio di Mina Lima quando ci andai ero davvero super propenso ad acquistare tutte le repliche di questi volumi che sono 5 se non sbaglio ma una volta presi in mano mi hanno davvero deluso parecchio soprattutto questo mi aveva deluso perché nella prima versione che è quella che avevo visto io in negozio non c'erano gli inserti in argento quindi la stampa era piatta era grigia avevamo il titolo del libro e questo reticolato qui stampati semplicemente in grigio e sinceramente ci sono rimasto parecchio male perché io mi aspettavo fossero foil fossero luccicanti e invece niente e quindi alla fine decisi di non spendere circa 15 euro per un quaderno che non li meritava secondo me successivamente circa un anno dopo Mina Lima ha annunciato sui social che era in arrivo una nuova versione di questo volume stavolta con gli inserti foil quindi così che erano quelli che proprio piacevano a me quelli che avrei voluto trovare io quando andai in negozio e quindi mi ero ripromesso di acquistarli dal loro sito ma sul loro sito ragazzi acquistare un solo pezzo non ha senso perché costano sì 12-13 sterline quindi intorno ai 15 euro ma bisogna mettere anche la spedizione che è di circa 8 sterline e più le ormai famigerate spese di Dogana quindi si arriverebbe a pagarlo quasi 30 euro un volumetto di questo e invece l'ho beccato su Vinted e ragazzi era ancora incartato confezionato l'ho pagato 12 euro compreso di spedizioni ed è praticamente nuovo guardate quanto sono belle le pagine tutte in argento spero si riescano a vedere anche dalla telecamera sono davvero molto molto belle all'interno è vuoto è un semplice quaderno a righe però secondo me questo qui che è di Minalima abbiamo anche il logo qui sul retro Minalima metterlo in collezione tra i propri libri fa la sua figura ha anche qui nella parte bassa il segnalibro eccolo qui quindi mi piace mi piaceva tanto lo volevo recuperare sono stato fortunato anche perché ne ho visti altri in vendita ma tutti sopra i 30 euro che non li vale a quel punto lo comprate dal sito Minalima quindi ragazzi questo è il secondo acquisto che ho recuperato e poi ne abbiamo un terzo che invece è della roba handmade che come sapete a me quando è fatta bene non dispiace mai ecco qui quest'altra busta questa volta invece arriva dal Belgio anche questo e gli ho pagati ragazzi la misera cifra di 4 euro anche questi di solito si trovano a prezzi molto più alti e invece me li sono portati a casa per soli 4 euro e si tratta dei gioielli di luna i gioielli di luna che abbiamo visto tantissime volte che spesso vede vendita a prezzi folli e invece io li ho presi 2 euro al pezzo ho acquistato per 2 euro questi che sono gli orecchini a ravanello che guardate quanto sono carini sono davvero fatti molto molto bene mi piacciono tantissimo io ho visto gli originali all'Ordra Wonder Bros Tour e sono davvero molto molto simili a questi e poi ho preso sempre per 2 euro da questa ragazza ho acquistato la collana turchese col tappo di sughero che anche questa abbiamo visto nei film raccontata nei libri di Harry Potter e quindi ho completato orecchini e collana di luna con soli 4 euro più spedizioni li avrò pagate alla fine intorno ai 7 euro che secondo me ragazzi è un vero affare e sono anche di questi super contento di poterli mettere nella mia collezione quindi ragazzi Vinted per me continua ad essere super approvato e super consigliato ormai la concorrenza tra i collezionisti è davvero sfrenata quando arriva un pezzo su Vinted e lo vedete vi interessa acquistatelo subito perché io mi sono lasciato sfuggire almeno 3 cose per averci rimuginato qualche minuto di troppo quindi ragazzi vi consiglio di scaricare l'app la trovate sotto in infobox e naturalmente vi consiglio anche di vendere su Vinted quindi caricate degli articoli su Vinted perché è davvero molto molto semplice super facile basta stampare la bolla attaccarla alla busta e portarlo al punto di raccolta davvero super super facile poi potete spendere il vostro credito o su Vinted o trasferirlo sul vostro conto corrente quindi davvero è super super consigliata ragazzi detto questo il chiudo e becco resto a vostra disposizione mi trovate su instagram antonio.seria lì potete farmi tutte le domande che volete in privato vi rispondo sempre lo sapete e ragazzi naturalmente iscrivetevi al canale condividetelo con i vostri amici commentate e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità ciao 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 ciao